Carissimi telespettatori ben ritrovati, sembra che sia arrivata una schiarita nell'avvertenza dei lavoratori della Abramo Customer Care che come si sa rischiano di finire disoccupati visto che a breve scade sia la commessa della team sia l'amministrazione giudiziaria della società di call center. Finora le trattative condotte essenzialmente dal Presidente della Regione Occhiuto e dai sindacati CGL, CISL, UIL e UGL che su questa avvertenza sono sembrati abbastanza in sintonia, avevano prodotto una serie di proroghe più o meno utili l'ultima soltanto di un mese che è sembrato quasi una presa per i fondelli. Sul tavolo c'è un progetto della Regione per riconvertire questi lavoratori inserendoli in un percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione che è una buona soluzione ma però è una soluzione che richiede tempi lunghi chiaramente tempi troppo lunghi rispetto all'esigenza di risolvere l'avvertenza subito. Su questa avvertenza dall'Abramo Customer Care però possiamo anche fare una serie di pagelle. Sicuramente stanno facendo pienamente da loro parte il Presidente Occhiuto che rischia di trovarsi tra le mani una bomba sociale e i sindacati. Invece inesistenti, quasi ai limiti dell'Ignavia, i partiti e i parlamentari calabresi di ogni colore politico mentre negativi sono invece Tim e il governo, la parte del governo che non riesce nemmeno a convocare un tavolo nazionale. Alla luce di questa situazione possiamo dire che al solito sotto accusa vanno messe queste grandi società pubbliche che ogni volta scendono in Calabria, la spremono e poi se ne scappano lasciando macere. Davanti a tutta questa situazione ovviamente si pone una domanda ma quanto la Calabria può davvero reggere l'autonomia differenziata? È una domanda scondata e anche una domanda retorica.